Ciao studenti, benvenuti a UNC. Oggi noi mostriamo dove mangiare in campus. Studenti mangiano in tutti il campus, dai suoi dormitori a Franklin Street. Nel loro dormitori, studenti mangiano cose che possono cucinare in un microonde, cose che basta con il formaggio, si chiama mac and cheese, la pasta lunga nella zuppa, come si chiama ramen o il caffè. Anche i studenti hanno le merende come le barrette ai cereali e le patatine fritte. Anche nei suoi dormitori ci sono piccole cucine dove potete cucinare o infornare cose come il pollo e la carne. Un buon luogo per trovare il cibo sano e economico è le sale da cena. Sono due in campus, Rams Head e Lenore. Avrai bisogno di comprare un numero di visite per entrare alla sala di cena. Si chiama meal plan. Loro hanno il buffet di insalate e frutte, molte opzioni di carne, pesce o pollo e opzioni vegetarane. Ci sono anche molti ristoranti in campus. Sono in Franklin Street. Alcuni sono Wingstop, Chipotle, Alpine Bagel e Subway. Da Covid io studio e vivo e mangio in casa, allora io non so come studenti mangiano in campus adesso. Io sì vivo in campus. Da Covid in Rams Head, Lenore, gli studenti non possono servire su piatti. I laboratori servono il nostro cibo. Arrivederci studenti. Ti vediamo nel prossimo semestre. Grazie. Grazie.